Buon viaggio, signore! Ma che è successo? Mi morta di voi! Fermi tutti, quella è mia, eh! Ma papà! Ma che parti sempre, che? Sempre in mezzo me la trovo! Ragazzi, sul binario 3, parti il locale per l'empa! Sì, al binario 3! Ti vai, professore! Ma chi l'ha inventata? Ragazzi, come si sta bene fra noi, fra uomini? Ma perché non siamo nati tutti in Pinocchi?